Il rischio naturalmente è che sondasse e che crollasse altri pezzi di argine e quindi poi impedisse l'utilizzo della strada. E dato che l'unica strada che collega questa parte di Anghiari significa lasciare le auto e arrivare a casa a piedi, quindi è una situazione insostenibile. Il Fosso della Reglia, in località Molinello, nel comune di Anghiari, da risorsa si era progressivamente trasformato in minaccia. Qui, infatti, una strada rischiava di restringersi progressivamente scivolando nell'alvio, rendendo irraggiungibili ad ogni precipitazione intensa campi e case, mentre le coltivazioni di tabacco finivano sott'acqua. C'è diverse coltivazioni di tabacco che per l'unico percorso della strada dovevamo intervenire sia nell'irrigazione sia nel rapporto della coltivazione. A luglio la segnalazione, la cura invece è iniziata ad ottobre. È un'opera che serve per la sicurezza del nostro territorio e anche degli abitanti del luogo. L'intervento ha riguardato oltre 200 metri di sponde per un totale di circa 50 metri di inserimento di opere in ingegneria naturalistica. Abbiamo ripetuto l'intervento in più i tratti di questa reglia per metterla in sicurezza e per regolare il deflusso delle acque. E quindi in collaborazione anche con il comune abbiamo in tempi di record realizzato l'intervento. Per la stabilizzazione è stato utilizzato prevalentemente il legno di castagno. Sono stati utilizzati esclusivamente materiali naturali che provengono anche dai fiumi stessi, dalle attività di taglio. Quindi sono alla fine tornate utili per la realizzazione di queste opere di ingegneria naturalistica. Questo intervento è importantissimo anche come è stato fatto col palizzato e non con i sassi oppure col cemento perché l'intervento su una reglia storica, la gavina dell'acqua viola che fu fatta nel 1200-2003 in un accordo tra Sansepolcro e Andiari, signori, spostando il Tevere da qui verso Sansepolcro.